A me non piace parlare, ma ho bisogno di raccontare una storia, una storia di sangue, la più breve mai scritta. Signor Sergio, io ci tenevo ad esporle la mia offerta di persona. Si tratta dei fratelli Ventura. Io so quanto sono pericolosi, mi creda. Questo lavoro è diventato uno useless. Si ammazza più nessuno. Di Massimo potrà occuparsene lei, ma di Edgardo vorrei occuparmene io personalmente. Io e mio fratello faremo parte della squadra. Quando escono sono scortati, comunque non sappiamo quando escono. Tu sei pagato da me e il piano resta quello. Famo che io so che c'è un debito di 40.000 euro al massimo e te sti sordi ce l'hai. Non mi sbaglio. Non c'è modo di organizzare la cosa senza esporci. Noi abbiamo bisogno solo di una persona con le sue capacità. Tu zitto, tante zitto, cazzo! Tu mi sa che te lo fa ammazzante a me! Tu in qualche modo mi potresti sapere. Se te morissi in maniera molto violenta, tu mi aiuteresti a riassammi più di quante immagini. Crede che si possa fare? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Sono Sergio e la gente mi paga per ammazzare altra gente.